Ragazzi oggi lago ad alta quota alla ricerca di salmerini, bronte, vittenti e compagnia E' giovanissimo, e vedremo a strima, a cercare di pregiungere il peggio anche secca e a nipa Come potete vedere ma soprattutto sentire, ho avuto audio che sono molto scarso, c'è parecchio vento oggi Strimer Black Gold E Mattia ha colpunto subito, grande Buona ragazzi, dopo neanche 5 minuti di pesca è uscita questa missione Siamo subito con lo streamer JP Char Special, un ottimo artificiale per questo tipo di ambienti e di pesci E' d'alta quota Abbiamo già preso un paio di pesci, dal contatto Abbiamo appena iniziato, io e Mattia abbiamo preso subito un paio di pesci C'è il vento, però per fortuna sotto i pesci sembrano belli e attivi Abbiamo avuto anche un paio di attacchi Adesso abbiamo visto un paio di temoli salire a bollare belli cattivi in caccia E quindi ci proveremo a secca Le condizioni non sono ideali per fare questo tipo di pesca Ma ci proviamo Mattia ha preso questo bellissimo temolo pescandolo in caccia, facendoli salire Dopo che ne ha sbagliati diversi, è stato bravo Lascia andare Così Beh, come il primo temolo, ragazzi, non c'è C'è, non dovete lamentarvi sicuramente Sulla formichina Adesso al Cristian e al Sao mi daranno dell'imparolo maledetto Ma è ora di passare al lato oscuro Purple E Black and silver Il parolo maledetto Maledetto Mitica purple, sui temoli è sempre micidiale Gran ninfa Gran ninfa Allora adesso qualche temolo sale E quindi Proverò a secca con la formichina Mentre il buon giovane Dopo che mi ha visto fare qualche cattura A ninfa Ha detto Dai, voglio provare a ninfa Se visto comunque Ed ecco Lo metteremo per la rocchina Sempre amm konnte No Dead Sono le mani Si Mi sembrano Eccolo, eccolo, eccolo. Bravo, 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 bravo. Sì, che gli va sempre dietro, lancia, adesso. Sì, tripla, vai, melding gesto, bravo. Ragazzi, sotto la pioggia concludiamo questa bellissima giornata in cui abbiamo preso veramente di tutto. Salmerini, trote, temoli, assecca, ninfa, streamer, primo temolo per Mattia, sei contento? Buonissimo. Bene dai, questa è una giornata fantastica. Grazie, grazie. Grazie di averci seguito. Iscriviti al canale, attiva le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.